Per portare a casa questa partita dovremmo essere bravi a limitare il loro playmaker, Peyton Siva, abile in campo aperto ma anche a creare da situazioni di pick and roll e uno contro uno per se stesso e per i compagni. Dovremmo limitare le capacità realizzative di Cinciarini e Mika Downs e riuscire a mettere freno all'atletismo e alla forza fisica dei loro lunghi, Bobby Jones e Hand. Dalla panchina un valido contributo glielo darà sicuramente Giuri, Brindisino e il lungo atipico Slocar, abile sia a tirare da tre punti che ad avvicinarsi a canestro. In attacco, circolazione di palla e contropiedi veloci per riuscire a rubare canestri dovranno essere il leitmotiv della nostra partita.